Come al solito, la creatività di e-books Italia produce sempre delle novità. L'ultima novità è una serie, diciamo, di e-book intitolati Offerta Speciale. E-book di servizio, e-book che si rivolgono o agli editori o agli autori che si autopubblicano oppure anche magari a tutte le aziende le quali producono delle brochure, dei cataloghi da distribuire online. Andate a guardarli, amici miei, se siete tra le categorie che ho citato perché è una modalità assolutamente nuova. Nel senso, come funziona? Funziona che offriamo un certo servizio e per avere questo servizio basta acquistare l'e-book con le istruzioni per attivare questo servizio. È una modalità molto semplice, molto dinamica, che mi auguro incontrerà il favore di tutti gli operatori nei vari settori e che soprattutto garantisce attraverso e-books Italia la possibilità che ognuno sia davvero direttamente il gestore del servizio che ha acquisito. Andate a guardare questi e-book, offerta speciale, dedicata alla produzione di e-book per conto terzi, dedicata alla promozione di e-book di chi si è autopubblicato, dedicata a chi produce dei cataloghi o delle brochure da scaricare gratuitamente online e dedicata anche genericamente a tutti gli editori. Grazie a tutti.